buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di br la storia dal 1969 al 1974 siamo sempre qui con gianremo armeni che saluto gianremo buongiorno ciao fabio ciao a tutti ecco allora per chi si fosse perso le puntate precedenti stiamo ripercorrendo la storia delle brigate rosse dalla fondazione anzi anche da un po prima della fondazione fino al 1974 e lo facciamo appunto suddividendo questa storia per capitoli insieme a te gianremo che come sociologo e come studioso come autore di libri su questi argomenti hai avuto modo di approfondire molto la questione hai collaborato con riviste importanti hai dato il tuo contributo alla commissione parlamentare quindi insomma adesso tocca a te chiarirci una serie raccontarci insomma una serie di punti oggi siamo arrivati dopo quello che abbiamo detto nella scorsa puntata a un momento importante in cui si va ad elevare la pericolosità delle brigate rosse e anche il loro il loro obiettivo diventa un obiettivo stavolta diverso da quelli dei primi tempi c'è una crescita proprio della capacità nell'operatività del gruppo e questa volta decidono quindi di portare il famoso attacco al cuore dello stato viene portato nella persona del magistrato genovese mario sossi e quindi la prima domanda che ti faccio è perché scelsero proprio lui sossi era sostituto procuratore della repubblica di genova era stato accusato da tutta la sinistra extra parlamentare di svolgere un'attività persecutoria nei confronti di tutto il movimento di protesta operaio e studentesco ed era considerato dall'estrema sinistra l'emblema dell'apparato repressivo fascista per questo si era guadagnato anche un curioso soprannome il dottor manette ma si trattava in particolare del magistrato che aveva ricoperto il ruolo di pubblico ministero nel processo alla 22 ottobre la 22 ottobre era una banda della sinistra rivoluzionaria che nel marzo del 1971 per autofinanziarsi tentò una rapina ai danni di un portavalori che culminò nella tragedia in una tragedia con l'uccisione di un fattorino alessandro floris il quale si era opposto ai banditi alla consegna della borsa con il denaro dentro i componenti di questa banda che tentarono la rapina assieme ai loro complici furono processati e condannati a pene severissime però il processo fu considerato dalla sinistra rivoluzionaria una sorta di buffonata non fu ritenuto regolare vennero contesto fu contestata la regolarità degli interrogatori e la paternità di questo complotto fu attribuita tutta a mario sossi inizioni suoi confronti un crescendo di avvertimenti minacce telefonate anonime slogan intimidatori il più famoso sossi fascista sei il primo della lista e fu il primo della lista per quanto riguarda l'inaugurazione della nuova fase l'attacco al cuore dello stato da parte delle brigate rosse fece molto scalpore all'epoca perché non era mai stato nessuno aveva mai osato sequestrare un magistrato prima di allora il piano viene preparato quindi si sceglie un posto si sceglie una modalità di gestione e poi loro fanno la famosa inchieste racconti queste fasi la preparazione del piano fu infatti molto accurata meticolosa proprio come era nello stile brigatista perché con quella operazione le brigate rosse questa volta avrebbero attaccato frontalmente le istituzioni indalzando il livello dello scontro e le istituzioni a quel punto avrebbero sicuramente messo in campo tutte le forze di cui disponevano già con il sequestro del direttore del personale fiat ettore merio nel dicembre del 73 quando lo 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 sequestrarono per otto giorni già in quell'occasione si era sentita si era avvertita la presenza di poliziotti e carabinieri in ogni angolo della città quindi questa volta non potevano più ricorrere a un box insonorizzato come era stato per il caso amerio questa volta ci voleva una casa non una casa qualunque una casa che avrebbe retto anche a una lunga detenzione del prigioniero fino a quando le trattative con lo stato non si fossero risolte a favore delle brigate rosse in caso contrario il bersaglio sarebbe stato eliminato e per la prima volta nella storia della brigate rosse viene presa in considerazione questa eventualità l'incarico di eliminarlo se lo assunse alberto franceschini per dimostrare a se stesso di essere in grado di prendere le distanze dall'essere umano mario sossi e di considerarlo viceversa soltanto un simbolo della lotta di classe lo stesso franceschini ribattezzò questa operazione come operazione girasole perché lui racconta che il giorno che era andato a fare il sopralluogo a tortona percorrendo un tratto dell'autostrada milano genova una aveva visto una grande distesa di girasoli scelgono tortona come base perché rappresentava una zona strategica tortona distava da genova luogo in cui abitava mario sossi e dove lo avrebbero rapito gli stava circa una settantina di chilometri loro pensarono che credettero che nessun inquirente si sarebbe immaginato che avrebbero percorso 70 chilometri con un prigioniero di quel livello a bordo inoltre a tortona avevano individuato un quartiere residenziale dove c'erano tutte queste villette unifamiliari ognuna con il giardino ed era una un'area assolutamente insospettabile dove peraltro eccetto i residenti nessuno aveva particolari motivi per vagabondare e questa particolarità di confondersi in mezzo alla gente è stato sempre un punto di forza dei brigatisti acquistarono questa villetta una di queste villette unifamiliari e la arredarono in modo che potesse trasmettere una certa serenità una certa tranquillità con anche con le tovaglie molto colorate con dei divanetti particolari per reggere a anche alla vista improvvisa magari di un vicino di casa che andava da loro a prendere un caffè inoltre costruirono una piccola cella di legno all'interno di una delle due stanze da letto insonorizzata con il polistirolo dove all'interno installarono una brandina per il prigioniero mario sossi e un piccolo bagno chimico per non dipendere ogni volta dalle sue necessità fisiologiche quindi accompagnarlo al bagno di un'altra stanza e riguardo questa piccola cella di legno che forse è più corretto definirla una sorta di tomba un loculo era talmente stretta che il giudice caselli quando qualche mese dopo scoprirono la base dopo che fu liberato mario sossi trovarono nel sottoscala della villa di tortona i pezzi di questa cella e loro la ricostruirono il giudice caselli entrò in questa in questa sorta di loculo per e non riuscì a resistere più di 45 minuti perché il senso di oppressione di asfissia era elevatissimo pensiamo che mario sossi in quella cella ci restò per ben 35 giorni perché la villa poi fu comprata e non affittata per due ragioni comprarono perché innanzitutto affittandola non avrebbero potuto eseguire dei particolari lavori senza chiedere il permesso al proprietario inoltre all'epoca le procedure informatizzate erano ancora a uno stadio embrionale per cui prima che il notaio avesse depositato gli atti di vendita del roggito sarebbe trascorso circa un anno questo significava che qualsiasi indagine catastale in quell'arco di tempo che avesse condotto un'indagine catastale in quell'arco di tempo si sarebbe ancora imbattuto nel nome del vecchio proprietario di una persona assolutamente insospettabile una volta eseguiti i lavori acquistata la casa fatta l'inchiesta per capire le abitudini del personaggio fu sequestrato la sera del 18 aprile 1974 proprio sotto casa sua a genova dopo essere tornato a casa con un autobus dal palazzo di giustizia perché sossi non aveva la patente fu malmenato e rinchiuso in un sacco di iuta ci fu anche un piccolo imprevisto perché la portinaia si accorse di quanto stava accadendo e tentò di fermarli naturalmente senza alcun esito e poi allertò le forze dell'ordine l'azione fu portata a termine da un commando brigatista composto da ben 18 persone ma per le regole della compartimentazione alla villetta di tortona arrivarono soltanto in tre secondo il principio che tutti dovevano conoscere il minimo indispensabile quindi sossi adesso è nelle mani delle brigate rosse arrivano alla villetta di tortona e arrivano soltanto alberto franceschini pietro bertolazzi e margherita cagolla uno ha fatto notare nel corso degli anni che se andarono in 18 per prendere sossi dovevano solo prelevare una persona non si capiva perché erano andati molti di meno a fare la strage di viafani supponendo quindi che ci dovessero essere altre persone viafani perché non era possibile che ci fossero andate molte meno persone in realtà però la spiegazione sta anche nel fatto che come posso dire erano due situazioni diverse e poi nel corso degli anni si verifica anche l'esperienza no che spinge ad un'economia di uomini e di mezzi per arrivare al minimo indispensabile per poter compiere un'azione penso che esco un attimo del seminato ma mi è venuto in mente mentre parlate questa è una domanda alla quale ho risposto quando sono stato udito dalla commissione d'inchiesta parlamentare sul caso moro e ho dato la stessa risposta nel senso che il caso sossi rappresenta il primo rapimento eclatante prima di sossi c'erano stati c'era stato ettore amerio per carità un alto dirigente della fiat però le due situazioni non erano minimamente paragonabile con il sequestro il rapimento sossi loro inaugura una fase che si chiama attacco al cuore dello stato quindi escono da quella sorta di sindacalismo armato di cui si erano macchiati precedentemente con il caso moro poi bisogna dire che oltre a quello che hai suggerito tece ovvero all'esperienza maturata e acquisita nel corso degli anni c'è anche da dire che è moretti il leader del delle brigate rosse nel 1978 nel 1974 l'operazione sossi viene gestita direttamente da un altro capo storico che è alberto franceschi quindi il tempo l'esperienza il cambio dei leader questi tre fattori principalmente fanno sì che le due situazioni siano completamente diverse sia in termini strategici che operativi premettiamo che prima del processo venne scritto il comunicato di rivendicazione con una lettera 22 la lettera 22 era la famosa macchina da scrivere della della oliva perché ogni esemplare vantava caratteristiche uniche e irripetibili per cui i periti non avrebbero avuto alcuna difficoltà a stabilire la stessa firma tra il primo comunicato e i successivi inoltre il comunicato fu fatto ritrovare assieme a una fotografia di mario sossi una fotografia che è molto simbolica sempre nello stile dei brigatisti che hanno fatto del simbolismo una sorta di marchio di fabbrica perché erano evidenti alle spalle di mar di mario sossi tenda uno standardo con la stella cinque punte la scritta brigate rosse portare l'attacco al cuore dello stato e inoltre il volto tume fatto di mario sossi perché ripeto fu malmenato prima di durante il rapimento che simbolizzava simbolizzava la punizione inferta il processo proletario fu condotto sempre da alberto franceschini personaggio al quale mario sossi attribuirà caratteristiche di un certo livello culturale a differenza di pietro bertolazzi che invece lo considera come un gregario rozzo alberto franceschini ogni volta che entrava nella cella del prigioniero per interrogarlo aveva con sé un mangianastri dove registrava tutto e una serie di domande preparate dal comitato insieme al comitato esecutivo il tema principale degli interrogatori interessò principalmente non esclusivamente quel processo di cui abbiamo parlato prima ovvero quello ai compagni della 22 ottobre che dai brigadisti non erano dei detenuti ma erano considerati dei prigionieri politici sossi si difese sostenendo che lui in quel processo era soltanto un pubblico ministero e che le sentenze le avevano scritte altri magistrati ma eh i brigadisti che in quella fase in quel in quella situazione erano i giudici proletari gli accusatori rilanciarono dicendo che lui quel processo lo aveva guidato e gestito a suo piacimento e che per gli ergastoli si era anche compiaciuto pubblicamente lo accusarono anche di non aver preso minimamente in considerazione la tesi dell'omicidio preterintenzionale a quel punto sossi fa qualche piccola ammissione dice che in tutti i processi è chiaro che lui avesse dei dubbi però i dubbi spiega li hanno i pubblici ministeri li hanno in tutti i processi per questo che poi le sentenze vengono scritte da altri magistrati e parla di una fotografia ovvero era stata scattata da una finestra una fotografia che ritraeva alcuni componenti di questa banda della sinistra rivoluzionaria la 22 ottobre puntare la pistola al fattorino Alessandro Floris mentre si allontanavano Sossi sostiene che quella fotografia è inappellabile nel senso che dimostra chiaramente come presero la mira per ucciderlo quando invece i brigadisti sostenevano che oltre che potesse essere un falso o quantomeno bisognava fare una perizia sulle negative sostenevano che il fattorino fosse stato già ucciso prima durante appunto la colluttazione per rubargli la la valigia il processo quindi si snoda ma si instaura anche parallelamente a questo una trattativa con lo stato sì perché le brigate rosse in cambio della vita di Mario Sossi chiedono la libertà per i prigionieri della 22 ottobre e qui si ripropone con le dovute differenze e cautele ciò che poi sarebbe accaduto quattro anni dopo con il sequestro Moro ovvero c'è un braccio di ferro tra il partito della trattativa e quello della fermezza il governo rifiutò qualsiasi ipotesi di trattativa con i brigadisti perché sosteneva che con i terroristi non si scendeva a patto per almeno due ragioni innanzitutto il cedimento al ricatto brigadista avrebbe potuto ingigantire quel fascino che i terroristi esercitavano su tutta quell'area favorevole all'eversione ma ancora indecisa se abbracciare o meno la lotta armata inoltre se fosse passato il principio che lo stato era disposto a trattare si sarebbe potuta innescare una lunga catena di trapimenti da parte di tutte le altre organizzazioni criminali e quel principio una volta che si fosse adottato per un magistrato non si sarebbe potuto negare a un normale cittadino perché sarebbe stato difficile poi far digerire alla società civile i due pesi le due misure va detto anche che questa spaccatura tra il partito della fermezza comunque prevalente e il partito della trattativa avveniva all'interno di un paese già diviso diviso da cosa diviso dall'imminente tornata elettorale il referendum per cancellare la legge sul divorzio che era stata approvata nel 1970 la moglie di mario sossi la signora sossi tentò altre strade avendo trovato chiuse tutte le porte a livello politico di governo rivolgendo appelli sia al santo padre che al presidente della repubblica ma senza alcun alcun esito quando è che la situazione prende una piega impensabile quando fu lo stesso mario sossi a suggerire ai brigatisti la soluzione e questo perché perché lui bisogna anche considerare il momento la condizione psicologica in cui si trovava lui prende atto che da fuori non fanno niente per salvarlo perché c'è la fermezza non può contare su un atto di clemenza dei brigatisti perché lo avevano scritto in tutti i comunicati che in caso di trattative sfavorevoli il bersaglio il l'ostaggio sarebbe stato eliminato e quindi inizia a pensare come può uscire da questa situazione va anche detto che sossi a un certo punto persuaso anche qui dai brigatisti teme di essere un bersaglio anche per le istituzioni perché le brigate rosse avevano divulgato pubblicamente un comunicato in cui sostenevano che l'ostaggio stava collaborando e aveva già fatto delle rivelazioni su alcuni intrighi occulti a livello del potere politico per sossi quindi questo rappresenta una sorta di minaccia certamente che qualcuno dall'esterno lo volesse tacitare ma ci fu un altro fatto ovvero una rivolta nel carcere di alessandria che fu repressa nel sangue dalle forze dell'ordine ci fu una lunga trattativa poi ai carabinieri arrivò l'ordine di fare irruzione e purtroppo persero alla vita alcuni ostaggi e alcuni detenuti questo fatto indusse anche a livello di stampa un giornale pubblico un'analisi del genere ma indusse anche i brigatisti a credere che quello era un messaggio indirizzato a tutti loro ovvero sappiamo dove siete quando faremo eruzione uccidiamo sia i rapitori che l'ostaggio sossi si convinse anche di questo e allora trova la soluzione suggerisce ai brigatisti di percorrere un'altra strada gli dice sbagliate a trattare con lo stato dovete trattare con la magistratura perché in uno stato di diritto fondato sulla separazione dei poteri la magistratura ha una propria autonomia e nessun presidente del consiglio nessun ministro dell'interno può interferire quindi bisognava secondo sossi tentare l'applicazione della legge di guerra quella che prevedeva gli scambi ma per poter far questo i brigatisti dovevano rapportarsi direttamente con la corte d'appello di genoa e l'espediente funzionò funzionò perché la corte d'appello di genoa riunitasi in camera di consiglio emanò un'ordinanza di libertà provvisoria per gli otto detenuti della banda 22 ottobre a patto però che il prigioniero venisse liberato e venisse assicurata la sua incolumità i passaporti degli otto detenuti furono trattenuti come ulteriore misura cautelare scelsero questa strada i magistrati perché sostanzialmente si trattava di scegliere tra due mali quindi scelsero quello minore l'unico che avrebbe garantito la salvezza di mario sossi anteponendola a cosa la ragione di stato la decisione della corte però creò un putiferio perché si opposero ferocemente il governo con in testa il ministro degli interni taviani larghi settori dello schieramento politico con il partito comunista a fare la voce grossa e si oppose chi infine il procuratore generale francesco coco il quale venendo da un'esperienza precedente contro il banditismo sardo aveva imparato che con i criminali non si scendeva a patti cioè al ricatto bisognava sempre opporsi perché per due motivi in primis perché la vittima sarebbe potuta rimanere uccisa lo stesso e inoltre quanto già detto ovvero il cedimento al ricatto avrebbe potuto incoraggiare altre imprese criminali e così lui impugnò l'ordinanza in cassazione e qui che succede adesso hai creato una suspense qui succede che questo braccio di ferro tra il partito della fermezza e la corte d'appello che emana l'ordinanza provvisoria di scarcerazione si risolve con una decisione e in quel momento è inaspettata da parte delle brigade rosse perché i tre brigatisti che custodivano mario sossi dopo ben 35 giorni decisero che era diventato troppo rischioso allungare i tempi del sequestro esisteva anche un problema di tenuta psicologica perché ormai era sufficiente un minimo rumore un minimo sospetto per farli balzare dalla sedia loro quindi fecero questo ragionamento loro dissero siccome esisteva una contropartita l'ordinanza della corte d'appello non si poneva più a quel punto la necessità di uccidere l'ostaggio e loro pensarono che se questa ordinanza non fosse stata rispettata sarebbero emerse tutte le contraddizioni di uno stato che non avrebbe rispettato le sue stesse leggi quindi in quel momento le br hanno la possibilità di uscire da quel da quell'azione da quell'operazione senza l'etichetta di assassini cuciti addosso a sossi dicono ti liberiamo ma questo non significa essere innocente anzi il processo proletario ha stabilito che tu sei colpevole quindi noi ti condanniamo a morte perché sei colpevole dei crimini contro il proletariato ma distinguiamo il momento della condanna da quello dell'esecuzione considerati quindi in libertà provvisoria viene liberato il 23 maggio 1974 dopo una detenzione di ben 35 giorni il 24 maggio viene visitato i medici riscontrano sul suo corpo la frattura alle costole di cui abbiamo parlato precedentemente verosimilmente fu causata dalle botte ricevute al momento del rapimento questo quadro clinico per il procuratore generale francesco coco che comunque avrebbe dovuto firmare il provenimento di scarcerazione fu sufficiente per stabilire che sossi non era stato rilasciato in colume che era una delle due condizioni indispensabile per poter eseguire l'ordinanza della corte d'appello così francesco coco annullò tutto e purtroppo con quella decisione firmò la sua condanna a morte perché i brigadisti si si sentirono presi in giro beffati e non si sarebbero dimenticate di quell'onta subita tant'è che due anni dopo nel 1976 sempre a genova procuratore generale francesco coco verrà ucciso da un comando brigadista assieme ai suoi due agenti di scorta quella decisione di coco di annullare quel provvedimento fu molto criticata anche a livello di stampa dicendo che l'errore era stato quello di scendere a patti con le brigate rosse ma che una volta che ci si era scesi non ci si poteva comportare in quel modo trovando un cavillo abbastanza ridicolo ecco questo è l'epilogo diciamo di questa vicenda nella prossima puntata invece introdurremo un personaggio che veramente sembra uscito da un romanzo se non fosse che è esistito davvero silvano girotto in arte frate mitra perché non non dovesse sapere veramente chi è stato perché se l'occasione buona per sapere tutto in mezz'ora ricordo che tutto quello di cui stiamo parlando si trova nel tuo romanzo br i fondatori che trovate su amazon che è un romanzo storico quindi un romanzo ma è storico cioè diciamo cambiano i nomi ma i fatti sono sono quelli reali quelli veri sono quelli che stiamo raccontando in questa miniserie quindi io saluto tutti quelli che ci hanno seguito anche in questa puntata ringrazio te gerremo per essere stato con noi e do appuntamento a tutti alla prossima puntata la prossima settimana grazie a te fabio un saluto a tutti quanti